Mi chiamo Marino Salvatore, sono candidato per la lista Gente di Rago Conorago, faccio politica da oltre 25 anni, è arrivato il momento anche per me di candidarmi a sindaco, sono stato scelto per le mie capacità, per le mie passioni, per la mia passione per la politica e porto avanti una squadra nuova, di persone nuove e di persone che si presentano per la prima volta in un contesto elettorale. Abbiamo intenzione di portare avanti una RSA, una residenza sanitaria per anziani, vogliamo portare avanti gli asili nido, vogliamo portare avanti il recupero del ponte della ferrovia di via Milano, vogliamo portare avanti l'illuminazione pubblica con un nuovo bando che porterà avanti anche i led e le colonnine per le auto elettriche, porteremo avanti il recupero di Viale Reina, quindi con parcheggi, l'illuminazione nuova, verde nuovo e così via. Porteremo avanti tante soluzioni, porteremo avanti un grande percorso nuovo con le associazioni, con un tavolo permanente in cui ci sarà grande sinergia e si porteranno avanti nuovi punti sulla cultura, sulle tradizioni di questo Paese e tante altre cose ancora.